La posizione dell'amministrazione fin dall'inizio è stata una posizione di massimo equilibrio. L'amministrazione ha sempre detto sì al parco, a condizione che non condizioni in maniera vincolante e non condizioni particolarmente le categorie produttive del nostro territorio. Fin dall'inizio è stata questa la posizione dell'amministrazione. Sappiamo tutti anche, e voi che conoscete la legge meglio di me, che l'istituzione del parco è stato istituito per legge e quindi fino a provo contrario una legge bisognerà applicarla fino a quando non verrà revocata dall'organo che l'ha redatta. Quindi il ministro la vuole portare avanti e quindi si va avanti per questa strada, ma il ministro e la regione parlano, e questo è un fatto importante per i territori che vengono chiaramente amministrati, e si va avanti perché chiaramente un parco non si può istituire se non esiste, se non vengono sentite le regioni, se non viene sentita la regione, e chiaramente gli enti locali in cui questa realtà dovrà nasce, dovrà sorgere. Ma non solo, il fatto importante è che non si vuole imporre alcunché, che si vuole concertare l'istituzione di questo parco con il territorio, e molte riunioni sono già state fatte e vi assicuro che molte verranno fatte, non solo, ne verranno fatte ancora, ma non solo, si era posto un termine, ma si è visto che era il 30 aprile, ma si è visto che questo termine non poteva essere rispettato, perché la problematica è estremamente importante, come ben ha detto il consigliere Abate, che è anche dottore probabilmente, però comunque in ogni caso non ha importanza. E come ha detto il consigliere Abate, questa è una decisione che verrà presa all'istituzione del parco, sarà sicuramente qualcosa che condizionerà il futuro del nostro territorio, perché è qualcosa in cui una volta entrati non si potrà uscire, se non esistono fatti particolari. Quindi bisogna stare realmente molto attenti, quindi se necessita dell'altro tempo, e questa è la posizione che Unani è stata condivisa sia dalle province di Siracusa che dalla provincia di Catania, è una posizione comune, e tant'è che la Regione ci ha detto di sforare, e quindi stiamo andando avanti con la concertazione. Infatti non esiste ancora alcune ipotesi di concertazione, esistono soltanto le ipotesi di concertazione, ma non c'è alcun che è di definito, o di definitivo che si voglia dire. Quindi, riunioni tantissime, i comuni hanno fatto riunioni già per i fatti loro, sono state sentite le categorie datoriali, sono state sentite le associazioni ambientaliste, sono state ascoltate anche gli animalisti, ripeto, sono stati ascoltati sicuramente tutti. Alle riunioni che sono state fatte a Palermo è stato presente sempre l'assessorato all'agricoltura, che chiaramente si sente, è l'assessorato che chiaramente sente molto la problematica, è intervenuto anche ad una riunione organizzata dalla presidenza della provincia di Siracusa. Quindi è una problematica che viene affrontata. Noi in loco come provincia abbiamo ascoltato, abbiamo quasi un tavolo permanente, ci siamo riuniti praticamente quasi tutti i sabati e quasi tutti i venerdì con i sindaci dei comuni della provincia, non solo. Abbiamo avuto riunioni con la Camera di Commercio, abbiamo accolto le associazioni ambientaliste, abbiamo assolutamente, ripeto, tutte le associazioni di volontariato sono venute in provincia, abbiamo parlato con loro, abbiamo acquisito gli elementi che loro ci hanno fornito e quindi è stato fatto un lavoro, e ripeto, ancora non siamo al termine di questo lavoro, quindi un lavoro, penso, importante, un lavoro significativo. Non solo, ma l'ipotesi che è prevalsa è stata questa, è meglio limitare il parco alle zone che realmente hanno un grande valore, un importante valore ambientale, ma cercare di evitare di coinvolgere le aziende agricole o zootecniche all'interno del parco se non sono in un contesto particolare. Quindi, meglio, cioè, diminuire il territorio adesso perché è più facile eventualmente entrare nel parco ed è molto più difficile uscirne se per caso domani si dovesse avere volontà di uscire. Quindi, il materiale che, ripeto, non mi voglio soffermare molto, perché mi riservo eventualmente, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, di rintervenire successivamente. Le cartine che io ho prodotto sono queste, praticamente, l'ipotesi che è stata, intanto, nel primo foglio c'è la cartina che è stata proposta, riguardo soltanto ovviamente alla provincia di Ragusa, dall'assessorato territorio e ambiente, così da Chitto utilizzando le zone sottoposte a vingolo. Vi dirò che già da Chitto la vallata dell'Irminio non faceva piacere che venisse inserito ad una prima visione della cartina. Successivamente, le cartine successive sono le carte dei vingoli che esistono nel nostro territorio, e l'altra cartina, invece, sono le ipotesi fatte dai sindaci del nostro territorio, quindi dei sindaci dei nostri comuni. L'altra cartina, invece, è l'ipotesi fatta dagli ambientalisti, dalle varie associazioni ambientalistiche. Chiaramente vi renderete conto la differenza di territorio, di ettari di territorio, coinvolti, chiaramente, nella costituzione di questo possibile, di questo parco, di questo futuro parco. Successivamente, si arriva alla ipotesi finale, che è l'ipotesi che praticamente è la più condivisa dalla stragrande maggioranza degli attori locali dello sviluppo. Sono i sindaci, i sindaci, associazioni di categorie, associazioni, e gliele dirò tutti, uno per uno, non si preoccupano, ma non me l'avete chiesto, comunque, sto dicendo genericamente, visto che mi fanno le domande, io le rispondo un attimino. Quindi, ma penso che qualche consigliere risponderà prima di me, perché parleranno altri, quindi, non solo, le dirò di più, la maggior parte dei capigruppo condividono queste ipotesi, dei capigruppo consigliari, la maggior parte, la stragrande maggioranza dei sindaci condivide queste ipotesi, quindi, le voglio dire, la stragrande maggioranza degli attori e dello sviluppo di questo territorio e alcune associazioni ambientalistiche condividono questa ultima ipotesi che prevede l'istituzione del parco degli Iblei nella provincia di Ragusa per oltre 14.000 ettari. Questa è, ripeto, quelle carte che vi ho prodotto hanno questo significato. Io mi fermo qui, vi ho detto come siamo arrivati, l'iter che c'è stato, le riunioni che ci sono state, il percorso seguito fino adesso. Sarò contento di ascoltare il Consiglio adesso e se dovesse essere utile sono disponibile a replicare, ma non in tono polemico, ma per dare chiarimenti e per eventualmente essere utile alla discussione, per cercare di raggiungere un'ipotesi condivisa che possa vedere il territorio di Ragusa possessore di un parco che possa essere uno strumento di sviluppo per noi e per le generazioni future. Grazie, assessore Amarli e consigliere Fegili.